allora capita di incontrare strane coppie in giro per il paddock del mondo strane facce diciamo che mai mi sarei aspettato di vedere questi due personaggi assieme ma vederli nel paddock di misano oggi mi ha fatto molto molto piacere parlo di lorenzo e di emilio alzamora insomma lorenzo c'è questa coppia che è stata annunciata io devo dire che li ho visti stamattina assieme quindi pensavo che stesse nascendo qualcosa però abbiamo aspettato l'ufficialità insomma cosa succede raccontateci voi due lorenzo mi fa piacere sentire prima tua poi mi fa piacere sentire miglio riguardo questa novità eccoci ciao a tutti innanzitutto oggi abbiamo fatto diciamo il debutto qui a misano eravamo un po in in avascoperta nel circuito di misano ma senza senza troppa troppo casino troppa gente nel paddock e niente eravamo qui a fare una giornata tranquillissima di allenamento con l'r1 grazie a yamaka che ci ha dato questa possibilità perché noi non siamo riusciti ad andare a barcellona e quindi sono molto molto contento di annunciarvi questo nuovo accordo con il con il mio nuovo manager emilio alzamora e sarà un nuovo percorso perché una nuova avventura iniziata in superbike adesso anche un nuovo tragitto insieme a emilio purtroppo i mezzi potenti messi a disposizione da gp1 sono due microfoni quindi in tre è complicato però ci arrangiamo emilio tu sei un grandissimo esperto del del motorsport due ruote in generale la superbike però mi sembra che sia comunque una novità no per te non è una cosa che già hai fatto in passato come come è stato questo approccio alle derivate dopo tanti anni nel moto mondiale e anche voglio sapere da cosa è nata no questa idea di seguire lorenzo sì veramente la verità che la superbike sempre l'ha seguito un po bene ma dell'anno scorso è andato a barcelona al gran premio barcelona mi ha invitato gregorio laviglia e visto un po come era la superbike mi ha stupito perché realmente a livello di organizzazione soprattutto di piloti è un livello molto alto anche tutte le marche le grandi marche sono là c'è tanto interesse e dai con lorenzo ha nato ha nato una collaborazione dal senso che io a casa non voleva stare mi piacciono tante le corse ti ha chiamato e ha detto miglio cosa fai cosa fai a casa no lui si è interessato per me e io anche andato al test di di gerès a lì si abbiamo incontrato e dai dopo di fare un giro mi piaceva aiutare qualcun ragazzo con potenziale lorenzo lo conosco da tanti anni fa di fatti aveva ha iniziato alla struttura di monlao competizione al 2010 2010 il primo anno insieme il primo anno e dopo tanti anni la vita si è accruciato le strade e sono contento di aiutarlo in questo percorso che penso che c'è una bella opportunità con questo nuovo nuovo progetto da superbike è una cosa secondo me particolare di questi due personaggi che hanno un'estrazione del moto mondiale prima ne ho parlato con emilio nel paddock mi sembra di vedere due persone che hanno voglia di rivincita di riaffermarsi di crearsi un percorso diverso alternativo nuovo e secondo me questa unione di intenti che c'è tra pilota e manager può essere una chiave del successo io ti ho visto molto motivato è chiaro che il debutto non è stato facilissimo in superbike perché la moto è nuova il team è nuovo insomma sappiamo che non è stato semplice però mi sembra che tu abbia già capito come andare quale strada prendere e penso che questa cosa possa darti magari una serenità non il paddock nel box di cui forse ho bisogno sì sì sono molto contento perché mi sento molto vicino emilio anche in termini di voglia di passione di obiettivi e quindi diciamo che dall'anno scorso che sono un po rinato dal campionato super sport e sono stato subito molto competitivo vincendo la prima gara al debutto e diciamo che sto sistemando vari tasselli intorno a me per avere un quadro un puzzle sempre più unito e penso che emilio sia proprio una buonissima parte di questo puzzle dopo è sicuramente ci vuole tutto l'insieme perché il livello che c'è adesso anche in superbike devi essere a posto in tutto sia il team la moto il manager le persone attorno e soprattutto quello che conta la testa del pilota più che l'allenamento fisico e tutto la serenità e quindi secondo me dopo un inizio in superbike dove mi sono sentito comunque con alcune difficoltà ma con un ottimo potenziale perché mi sembra una moto più mia anche faccio anche meno fatica rispetto al super sport ecco però comunque bisogna avere pazienza sicuramente un po di tranquillità anche quando dici ci posso stare posso farcela come dicevamo prima come fai te in pista ci vuole pazienza e quindi però penso che dalla metà campionato in poi possiamo avere una buonissima progressione andare 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 forte vi svelo retroscena perché sai poi ci sono tante storie paddock vi dico la verità stamattina ho visto emilio e lorenzo e insomma lorenzo mi ha detto no forse annunciamo non lo so non lo so poi emilio mi ha detto ma tu devi girare appena lorenzo ha saputo che io devo girare prima che emilio potesse vedermi girare ha firmato il contratto con emilio perché sennò sarebbe stato un punto di meno saltare guarda vado con marco comunque ragazzi scherzi a parte voglio sapere un'ultima cosa che riguarda un po il paddock precedente di entrambi e riguarda il format mi fa piacere parlare con te lorenzo della super pole race e della diciamo della sprint race che hanno qualche cosa in comune tu l'hai sperimentata a philippe island e quindi hai visto di cosa si tratta in superbike ora si tratta di capire come il moto gp può funzionare le moto sono diverse per te cosa ha significato fare la super pole race e come come l'hai vista insomma cosa ti sembra sia giusto o sbagliato di questo format mettiamolo così sicuramente è una gara molto al limite è bella per lo spettacolo ma comunque se parliamo di sicurezza per noi piloti è una gara molto a rischio perché diciamo in superbike ho sentito lamentarsi in moto gp e ho saputo che magari piloti superbike ho sentito dire che non si lamentano in realtà ci sono stati anche di lamenti in superbike perché petrucci ha detto sembrava una rissa da bar in realtà da parte mia anch'io l'ho vissuta così un po come una rissa perché dal nono magari primi piloti vedi sia una bella bagarre ma dove non e quando non inquadrano dietro succedono delle cose io infatti in australia dopo quattro giri perché dal nono al quindicesimo è lì che succede un gran casino perché se fai nono cambia la posizione se no non cambia niente e quindi dai tutto per fare nono da quindicesimo però ti dico è stata veramente tosta perché dopo quattro giri ho visto talmente tante cose tanto casino e rischi di di prendersi pieni che dopo quattro giri guardo quanti giri mancavano mi sembra aver fatto tre gare in realtà avevo fatto solo 4g. Emilio tu invece come come l'hai vissuto questo primo weekend di questo nuovo format ed ecco se tu magari hai apprezzato delle differenze tra quello della superbike e quello della moto gp se magari si deve sistemare qualcosa in moto gp secondo te oppure è un format che può funzionare anche quel campionato è sempre un formato nuovo e da vedere no è da provare e ali devono capire io penso d'orna i piloti al livello del rischio che si prende non si prende con un po più di esperienza capire se i piloti sicuramente poi se l'hanno più in mano è normale prima gara io penso che anche la prima gara ha stato che hanno fatto un test prima della gara tutti andavano fortissimi tutti avevano il máximo del suo livello e questo si lo metti in una gara di 12 giri la sprint race con conservatorio più basso tutto per la velocità molto alta vediamo un po come va argentina come vanno le altre gare come si vanno sistemando ma comunque è normale le cose nuove si devono vedere allora ragazzi bello vedervi insieme bocca al lupo a entrambi oserei dire una grande stagione per tutte e due magari non parlo di rivincita ma di voglia di trovare una strada diversa ecco rispetto al passato magari piena di successo davvero ragazzi ve lo dico un po fuori dal microfono fuori dalla registrazione personale alla mia destra ci sono due persone straordinarie una persona di grande esperienza ha gestito grandissimi piloti e l'ha fatto sempre con un grandissimo stile sempre è stato un grande signore quando era pilota e quando è diventato manager e lorenzo per me è un ragazzo dal cuore d'oro lo conosco da tanti anni l'ho visto crescere l'ho intervistato in argentina in moto due cioè è stato davvero io ho visto fare tanti passi mi auguro che possa trovare una grande dimensione superbike che secondo me è un mondo che per te come ragazzo come pilota può essere il posto giusto per per trovare il tuo diciamo scenario perfetto mettiamo così bocca al lupo di nuovo va bene un saluto paolo il decano è sempre presente paolo